Passiamo ora all'ultimo dei momenti, al raggiamento di Davide Cotto. L'ultimo dei miei carri è l'ennesima per l'esposizione cinematografica dell'orario sull'Ice di Spermio Vulto, che di sicuro l'orario di un uomo sull'arriano di tutto. La vicenda è scritta nel contesto storico della guerra romano francese nel 1757 per il possesso coloniale del nuovo mondo. Ruota e topologa la figura di Nathalie Horby, regista del film di Michael Mann. Le strumenti musiche, composte da tre bucciose, da Eddie and Herman, hanno un momento sonoro di arricchia, cioè il momento dell'incisività, che esalta tanto il corpo romantico quanto quello che è il popolo romantico dell'articolo. Senza tale intenso salvo, che non sarebbe lo stesso. Un racconto patristico cittadino di Nara vi propone questo ragione di prodigio di indiscutibile forza ed espressività. A voi. Grazie. 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 Grazie.